312 euro in Bulgaria, 2.142 euro in Lussemburgo. Questa è la differenza fra i salari minimi regolati da leggi nazionali che vi sono attualmente all'interno dell'Unione Europea. È chiaro che la proposta di direttiva presentata dalla Commissione non può risolvere queste disparità, è impossibile. Chi dice questo, chi afferma che verrà introdotto un salario minimo europeo, afferma il falso e gioca con argomenti che invece sono importanti, su cui la Lega cercherà di dare il suo contributo avendo presentato emendamenti per migliorare un testo che chiede di avere perlomeno una convergenza. In questo senso credo che possa essere uno strumento utile per eliminare un po' di quel dumping sociale che vi è all'interno dell'Unione Europea e per cui, lo sanno bene i nostri amministratori locali, le nostre regioni, abbiamo fenomeni di delocalizzazione dai paesi dell'Ovest, dove il costo del lavoro è molto elevato, a paesi dell'Est, dove non vi sono tutele. È chiaro che noi non vogliamo che lo strumento dei salari minimi aiuti solo quelle imprese che giocano solo sulla competitività derivante dal costo del lavoro. Ecco, vorremmo che in questo senso la Commissione Europea si assumesse delle responsabilità, per esempio, quando con politiche commerciali folli mette sul mercato, in uno scontro diretto che fa solo vittime, lavoratori europei ai lavoratori asiatici senza tutele di nessun tipo e addirittura senza democrazia e diritto di parola. Quindi in questo senso l'impegno della Lega è concreto, importante, ma dobbiamo scaricare la direttiva da quello che non è. È un testo che serve per aiutare in questa direzione, ma non introdurrà salari minimi uguali per tutti e perché è anche impossibile farlo.